Palla corta, che più corta non si può qui da parte di Monaco Ha fatto tutto il possibile Zverev Ancora, concede un altro errore Monaco Palla corta, che più corta non si può Che intensità Buon impatto Buon impatto Buon impatto Buon impatto E con un turno di battuta a zero, Aleksandr Zverev Sotto il nastro Niente da fare Rischia di franare la partita di qua a Monaco Il passante vincente in controbalza con il dritto Kukushkin e Bellucci Fino di cedere a Bagdatis Capacità però di Zverev Terbi da Mathieu Verdasco da Malmagro Un altro terbi Ancora con la smorzata, va a segno E Aleksandr Zverev Un anno dopo la semifinale di Hamburgo Torna protagonista a livello ATP E stromette dal torneo la testa di serie numero 4 Qua a Monaco Punteggio finale 6-4-6-2 Aleksandr Zverev è nei quarti di finale